Questo è un abbinamento che apprezzo particolarmente. Trattasi di un abito grigio medio spinato davvero elegante. Notare la spina che è leggermente più ampia e quindi dà certamente movimento e un look deciso al capo. Da notare come l'abito si è stato abbinato con questa caprice celeste e questa cravatta sul rame, sul marrone, sul bronzo che secondo me sposa molto bene e dà all'abito un look certamente da giorno che, ripeto, fa notare che ci sia un pensiero, un studio di abbinamento ma certamente non ha nessun tipo di elemento eccessivo o troppo appariscente. Da notare la fodera in questo straordinario blu anch'esso, leggermente gangiante, che dona preziosità all'abito e che secondo me nel complesso sposa molto bene. Spero che l'abito e che il video vi siano piaciuti. Ci vediamo da dal salto.